Un'ottima reazione anche questa notte se consideriamo che l'attivazione aggiuntiva è arrivata poco prima delle 4 e contattati i presidenti delle associazioni ANPAS e per quanto riguarda Piacenza direttamente gli operatori c'è stata un'alta adesione in tempi estremamente concisi. Questo ha permesso un'attivazione rapida e un arrivo sul posto secondo il mio punto di vista in tempi estremamente contenuti quindi devo nuovamente ringraziare tutto il personale ANPAS delle pubbliche assistenze della provincia di Piacenza perché come d'abitudine quando ci sono delle necessità riesce a mettere in campo diverse risorse che potevano essere spendibili non solo sulle ambulanze ma anche con mezzi di trasporto ordinari quali pulmini e soprattutto grazie anche al coordinamento della sala operativa interna che abbiamo a Piacenza ma ci tengo anche a ringraziare i professionisti del 118 che hanno poi orchestrato il soccorso anche con tutte le altre organizzazioni.